Un colpo di mano Nessun dubbio che Monty Stein, con un'abile truffa, si fosse appropriato illecitamente di oltre 100.000 dollari. Nessun dubbio, neppure, che fosse stato arrestato un giorno dopo la scadenza dei termini di prescrizione penale. Fu però il modo in cui Monty evitò l'arresto durante quel periodo che rese clamoroso il processo dello stato di New York contro Montgomery Harlem Stein, con tutte le sue conseguenze. Quel caso aprì alla legge le porte della quarta dimensione. Perché dovete sapere che Stein, compiuta la truffa e impadronitosi dei suoi cento e più bigliettoni, era entrato tranquillamente in una macchina del tempo, illegalmente in suo possesso, e aveva regolato i comandi per un viaggio di sette anni e un giorno nel futuro. L'avvocato di Stein non la fece lunga. Nascondersi nel tempo non era sostanzialmente diverso dal nascondersi nello spazio. Se la forza pubblica non era riuscita a scovare Stein in quei sette anni, questo non riguardava il suo cliente. Il procuratore distrettuale fece notare che l'istituto della prescrizione penale non era da intendersi come una gara tra la legge e il criminale. Era un atto di clemenza da parte del legislatore, inteso a proteggere un imputato dall'eventualità che il timore di un possibile arresto si prolungasse indefinitamente. Per certi reati un determinato periodo di pena, per la pena, se si consente il bisticcio, era considerato una punizione sufficiente. Ma, insistette il PD, lo Stein non aveva sopportato pene in nessun senso. Il legale di Stein non batte ciglio. La legge non fa riferimento a possibili misurazioni del grado di timore o di angoscia dell'imputato. Essa fissa semplicemente un periodo temporale. Il PD sostenne che Stein non aveva vissuto quel periodo. La difesa affermò che Stein in quel momento era sette anni più vecchio che nel momento in cui era stato commesso il reato e quindi aveva vissuto quel periodo. Il PD contestò l'affermazione e la difesa esibì il certificato di nascita di Stein. Era nato nel 2973 al momento del reato, nel 3004 aveva 31 anni e ora nel 3011 ne aveva 38. Il PD gridò che Stein fisiologicamente aveva 31 anni. La difesa obiettò geridamente che la legge, una volta che un individuo si è riconosciuto mentalmente capace, considera solo l'età cronologica che può stabilirsi unicamente sottraendo la data di nascita dalla data corrente. Sempre più agitato, il PD sbraitò che se Stein veniva messo in libertà, metà degli articoli del codice sarebbero diventati carta straccia. Allora cambiate la legge, replicò la difesa, in modo che tenga conto dei viaggi nel tempo, ma fin quando non sarà cambiata bisognerà applicarla come formulata. Il giudice Neville Preston si prese una settimana per riflettere, poi emise la sua sentenza. Fu una svolta decisiva nella storia del diritto. È quindi spiacevole che ancora oggi qualcuno sospetti che il giudice Preston si sia lasciato deviare dai suoi convincimenti dalla tentazione irresistibile di formulare la sua decisione nel modo in cui la espresse, perché la sentenza suonò così. Una nicchia che nel tempo assolve Stein.